All'annagrafe Aloisa Stukin, cognome del padre adottivo polacco, che aveva sposato la madre, dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1952 a Merano, e Miss Europa nel 1953 a Istanbul in Turchia, ottenne una parte di secondo piano nel film Villa Borghese diretto da Gianni Franciolini. Imponendosi per la sua bellezza, nei dieci anni successivi ha continuato a lavorare nel cinema, collezionando apparizioni in film di scarso rilievo in cui solitamente interpretava se stessa, fino a rinunciare definitivamente alla carriera cinematografica quando non aveva ancora 30 anni.